Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno giovedì 19 agosto e siamo qui con le novità di Football Pass 2021. Come potete vedere ci sono ancora gli MWP della Serie A, ma li abbiamo visti lo scorso lunedì, e poi ci sono i giocatori dell'International Cup con Amici, Menetz, Depay, Richardson, Tolisso, Pezzella, Bastoni, Leimer, Danny Olmo, Gunok, Renato Sanchez e Severic. Adesso li vediamo in dettaglio, però approfitto per rispondere a due domande che stanno girando parecchio. La prima, come mai non escono le icone della Juve da tantissimo tempo, ed anche oggi ve lo preannuncio in anteprima, neppure oggi ci sono perché ci sono quelle del Barcellona, non lo so ragazzi, e avete proprio ragione perché è molto strano onestamente che una squadra partner esca così poco frequentemente tra le icone. In realtà anche altre squadre partner, non so, mi mette l'Arsenal, il Bayern Monaco, non è che sono uscite poi chissà quante volte, sicuramente il Barcellona, il Manchester United sono uscite molto di più, però effettivamente per me è un errore da parte di Konami. Eccole qui, li vedete, le tre icone di oggi, poi andiamo a vedere in dettaglio, Guardiola, Romario e Ronaldinho. Seconda domanda, ricominciano i campionati? Alcuni sono già ricominciati il prossimo fine settimana, cioè da sabato, fra due giorni, comincia anche il campionato italiano. Ci saranno di nuovo gli aggiornamenti e la valutazione dei giocatori? Non lo so. Ad oggi Konami non ha detto assolutamente nulla. Poi vi ripeto, il campionato francese e il campionato tedesco sono già iniziati, l'inglese sono già cominciati le scorse settimane e ad oggi la valutazione dei giocatori non arriva. Il fatto è che normalmente a settembre già avremmo giocato alla versione completa del nuovo PES, per i football c'è da aspettare un po' di più, quindi bisogna un po' vedere quello che farà Konami, non dipende da me. Comunque, eccole qui le novità di oggi. Le icone del Barcellona e i giocatori della settimana, Player of the Week e poi i fan choice della Serie A, ma questi li abbiamo già visti lunedì scorso. Allora, andiamo a vedere queste tre icone del Barcellona. C'è Messi, perché ovviamente Messi non manca mai, siamo proprio curiosi di vedere come lo faranno in i football, in versione PSG, la valutazione, eccetera, eccetera. Allora, Ronaldinho, 26 livelli di crescita, forma fisica, 6 su 8, controllo palla 95, dribbling 96, velocità 86, accelerazione 92, controllo corpo 93. Beh, è un signor giocatore, un signor trequartista questo, devo dire che il classico numero 10 come stile di gioco è bello, bello come giocatore. Parte da 94 con 26 livelli di crescita, wow. Romario, 93, 22 livelli di crescita, forma fisica 7 su 8, comportamento offensivo 95, finalizzazione e possesso stretto 94, controllo corpo 94, resistenza 86. Siccome davanti ho il finimondo, invece come trequartista sono piuttosto, non ho tantissimo, indubbiamente se girassi le coni in Barcellona, ma non le giro perché non ho abbastanza monete, sicuramente Romario sarebbe, e Ronaldinho sarebbe colui che vorrei trovare, anche perché Guardiola sta a 89, 29 livelli di crescita, forma fisica 7 su 8, passaggio verso terra 91, passaggio alto 90, calci piazzati 86, controllo palla 89. Insomma, bene ma non benissimo per così dire, forma fisica 7 su 8, ma non mi fa impazzire Guardiola. Ronaldinho sì, Ronaldinho è un giocatore che mi piacerebbe davvero molto avere. Ma adesso andiamo a vedere i giocatori in evidenza della settimana, e come al solito ne sono 11. Partiamo dal fondo, Seferovic punta Svizzera, allora 25 livelli di crescita, forma fisica 5 su 8, più 6 in velocità, più 6 in accelerazione, più 9 in potenza di tiro, più 6 in elevazione, più 6 in contatto fisico, più 6 in resistenza, più 9 in finalizzazione. Sicuramente è una versione ultra potenziata, ma rimane un giocatore abbastanza inutile al 16, sì al 16, addio, al 19 di agosto, scusate, prima avevo detto 16 e volevo dire 19, mi sembra forse, ve l'ho detto, non lo so, non mi ricordo. Renato Sanchez, 32 livelli di crescita, forma fisica 5 su 8, controllo palla più 5, dribbling più 5, possesso stretto più 5, accelerazione più 5, potenza di tiro più 5, contatto fisico più 5, controllo corpo più 8, resistenza 89, con 32 livelli di crescita. È interessante, ma non mi fa impazzire neppure lui. Danny Holman, che ci ha fatto vedere i sorci verdi nella semifinale degli europei, Danny Holman ha 36 livelli di crescita, un po' bassa la forma fisica 5 su 8, dribbling più 4, possesso stretto più 4, controllo palla più 4, passaggio alla sottata più 7, tiro al giro più 4, accelerazione più 4, controllo corpo più 4. Eh, questo Danny Holman non è male, non è proprio il top, non è proprio il top, preferire Ronaldinho, ma Danny Holman, se lo pescassi dopo un giro lo faccio, come al solito, 36 livelli di crescita, Danny Holman mi piace. Gunok, portiere turco, 23 livelli di crescita, comportamento pt più 9, va a 99, wow. Presa pt più 6, respinta pt più 6, riflessi pt più 9, estensione pt più 9, potenza di tiro più 6, elevazione più 6, contatto fisico più 6. Insomma, cioè l'hanno strappompato e rimane sotto i 90, però con 23 livelli di crescita è un portiere discreto al 19 di agosto, come ho già detto, secondo me non è proprio il top. Limer, 31 livelli di crescita, forma fisica 6 su 8, controllo palla più 8, passaggio verso terra più 8, velocità più 5, accelerazione più 5, resistenza più 5, da 90 a 95. discreto, discreto vale quanto detto per gli ultimi giocatori, bastoni, finalmente un giocatore italiano, 38 livelli di crescita, forma fisica 6 su 8, comportamento difensivo più 8, recupero palla più 8, aggressività più 5, colpo di testa più 5, resistenza più 5, contatto fisico più 5, elevazione più 8. eh, bastoni, con 38 livelli di crescita sarebbe una bella pescata, mi piacerebbe molto trovarlo. Tolisso, 91, giocatore del Bayer Monaco che sulla versione PC ho usato moltissimo, 24 livelli di crescita, forma fisica 5 su 8, controllo palla più 5, dribbling più 5, passaggio verso terra più 8, passaggio alto più 8, colpo di testa più 5, potenza di tiro più 5, elevazione più 5, contatto fisico più 5, controllo corpo più 5, resistenza più 5, non male, non male, anche lui mi piacerebbe, mi piacerebbe più bastoni di Tolisso. Pezzella, giocatore della Fiorentina, anche se ci sono rumor di mercato, livelli 21, forma fisica 4 su 8, molto bassa, colpo di testa più 5, comportamento difensivo più 8, recupero palla più 8, aggressività più 5, contatto fisico, elevazione e resistenza, tutti più 5. Un po' lento come difensore, ma tolta la velocità è veramente un ottimo difensore con 21 livelli di crescita, ma preferisco ancora bastoni. Richarlison, 29 livelli di crescita, forma fisica 6 su 8, comportamento difensivo più 8, controllo palla più 8, dribbling più 8, possesso stretto più 5, finalizzazione e colpo di testa più 5, velocità e accelerazione più 5, potenza di tiro, elevazione e contatto fisico più 5. Bel giocatore Richarlison. Richarlison e bastoni sono due giocatori che mi andrebbero benissimo se li pescassi. Gimenez del Atletico Madrid, 26 livelli di crescita, forma fisica 6 su 8, colpo di testa più 5, comportamento difensivo più 7, recupero palla più 7, aggressività più 4, elevazione più 4, potenza di tiro più 4, contatto fisico più 7, resistenza più 4. Non è velocissimo neppure lui, anche se aumenta 80 di velocità e accelerazione 78, però porca vacca è un signor difensore. Anche lui mi piacerebbe come pescada. Depay 93, 23 livelli di crescita, forma fisica 6 su 8, dribbling più 8, possesso stretto più 4, passaggio verso terra più 4, finalizzazione più 8, calci piazzati più 4, tiro e giro più 4, velocità più 4, accelerazione più 4, potenza di tiro più 4, contatto fisico più 8. Un signore attaccante, ma io l'unica zona del campo dove davvero ho abbondanza è l'attacco, quindi giocatore oggettivamente molto interessante, a me interessa poco. Quindi se pesco Gimenez, Richarlison o Bastoni sono contento, gli altri un po' meno. Vediamo ragazzi, giriamo, giriamo e vediamo come va. La mia singola pescata. Italia, 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 dai Italia, è bastoni, è bastoni, è bastoni, è bastoni, è bastoni, è bastoni. Bene. Benissimo. Adesso me lo livello un po', così vediamo fin dove arriva. Allora. Ecco qui. Prendiamo qualche difensore che ci interessa poco. E lo diamo in pasto a bastoni. Allora. Ah, Hummels lo converto, non mi interessa, è almeno una bella palla nera. Poi, vediamo. Alvaro Bonsares. Convertiamo in preparatore ESP. Poi. Scendiamo i difensori. Allora, no, quelli in evidenza, no, Sanchez, Godin, Godin, sì, convertiamo. Ok, iniziamo a vedere che succede così. Allora. Sparatore di ESP, 28. Allora, andiamo a trovare bastoni. Eccolo qui, 90. Allora. Hummels e due preparatori. 10.800, non è male. Abbiamo fatto 12 livelli di crescita. E sta già a 93 bastoni. Quasi al top dei difensori che ho. Andiamo avanti. Gonzales e due preparatori ESP. Vediamo. 9.100. 16 livelli di crescita. 94. Adesso è al top insieme a questi altri quattro. Continuiamo con Godin. Gli diamo tre a Godin. Vediamo se... Niente di che. Però. 19 livelli di crescita. Andiamo a prendere qualche altro difensore. Magari ce ne fosse qualcuno italiano. Non me li ricordo. Allora. Basilio, Delec, Tesillo, Tuambe, Rodon, Pablo Santos, Pablo Santos, David Carmo, Sunic, Lucas Verissimo, Fernando Cagliero, Maidana, Ogbon, Ogbon. Beh, io Ogbon lo converto a italiano. Dovrebbe darmi un buon risultato. Vediamo. Dove, dove, dove? Eccolo. E poi... Il signor Ferrari. Dovrebbe, perché poi c'è sempre la parte randomica, per così dire. Rachmani, Araujo, Arboleda, Saiz, Holding, Ierai, Interegger, Orban, Orban lo converto. Ok. Vediamo. Ogbon. Tre preparatori speciali. Vediamo. Poca roba. Lo so, li dovrei livellare anche i preparatori ESP, però, dopo qui non si finisce mai. poi... poi, 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 poi. Andiamo a fare di nuovo un Ogbon più un preparatore. Poca roba anche qui, però, intanto, facciamo 22 livelli di crescita. E poi, ancora, andiamo con Ferrari. Preparatore di ESP speciale. Oh! 10.000, visto? Ho fatto un po' di più. 24 livelli di crescita. Siamo a 95. Mica male. Orban. Altri due preparatori. 9.200. 25 livelli di crescita. E ora vado con i preparatori, così. Facciamo 12. Vediamo. 26. Un altro, non facciamo, 27. Ancora. Non mi sale più di 95, il caro bastone. Altri tre, via. Uno, due, tre. Mi arrivare a 96. Oh, eccolo. Ebbè, ragazzi, niente male, eh? Questo bastoni ha 28 livelli di crescita, eh? Elevazione 95, comportamento difensivo 95, recupero e palla 96, velocità 87, accelerazione non è il massimo, però mi piace molto, mi piace molto. E poi ancora 10 livelli di crescita. Va bene, ragazzi. Per oggi è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Speriamo che arrivino presto novità anche per i football. Se ancora non vi siete iscritti al canale, fatelo, eh? Vediamo di essere 10.000 per quando esce la primissima. La versione di football, che ve lo ricordo, è una sorta di demo. Niente di più. Però, se siamo in 10.000 possiamo commentare assieme, parlarne e staremo un po' a vedere. Inizia autunno, eh? Oramai un mese, un mese e qualche settimana, dai? Non di più, non di più. Comunque la settimana prossima c'è la Gamescom. Ci saranno sicuramente novità, non so ancora dirvi quali. Però, diciamo che lo seguiremo veramente in tempo reale per darvi tutte e tutte le informazioni possibili. Quindi iscrivetevi, mettete di voler ricevere tutte le notifiche, sia dei video, sia della zona community. Se volete supportare il canale, potete abbonarvi al canale e potete fare gli acquisti di Amazon passando per il link di affiliazione che trovate nella descrizione del video. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci aggiorniamo al prossimo filmato e vi assicuro che c'è pochissimo al momento. Grazie e ciao! Grazie a tutti!